La nuova luce di sicurezza con sensore di movimento e lampadine a LED super luminose ti permette di stare più tranquillo quando fuori è buio e senza fili. Quindi può essere installata in pochi secondi ovunque. Può accendersi fino a 3000 volte con un solo set di batterie. È così potente che è in grado di illuminare un'intera casa. I LED a 450 lumen riescono a coprire una superficie di ben 60 metri quadri e sono visibili perfino a 800 metri di distanza. Può essere orientata verso l'alto e il basso e ruotata verso destra o sinistra e il sensore di movimento si attiva già a 11 metri di distanza. Inoltre si spegne automaticamente dopo 20 secondi e il suo sensore di luce integrato resta spento durante il giorno. È ideale per vedere chi suona alla porta o quando non sei in casa per rendere la tua abitazione più sicura. Usala in giardino per avere più luce fuori casa o nel tuo armadio perfino sulla porta del garage e resiste a ogni tipo di condizioni climatiche. La sua luce resta forte perfino sott'acqua o dentro un blocco di ghiaccio.